Proprio in queste ore si sono perse le tracce di un piccolo sottomarino che stava portando, solo dopo un lauto pagamento, un gruppo di turisti a visitare il relitto del Titanic. Il mezzo fa parte di una flotta privata utilizzata per questo tipo di immersioni a oltre 3.800 metri di profondità sul fondo del mare dove da oltre 100 anni riposa quello che rimane del famoso transatlantico affondato di fronte alle coste di Terranova in Canada nel 1912 e scoperto solo nel 1985. La notizia l'ha data poco fa alla tv britannica BBC ma in breve è rimbalzata sui media di tutto il mondo. Al momento non si conosce il numero delle persone a bordo del sommergibile ma sempre secondo i media inglesi pare non ci fossero solo membri dell'equipaggio ma anche alcuni visitatori. Già allertata la guardia costiera di Boston che ha avviato le operazioni di soccorso che però si preannunciano difficilissime. Si sa che il mezzo disperso aveva a bordo un segnalatore GPS in grado di indicare con esattezza la sua posizione in fondo al mare ma non si sa ancora se il segnale sia stato captato e poi c'è l'estrema profondità. Sono pochissimi sommergibili in grado di avventurarsi così a fondo e per il tempo necessario a un salvataggio di questo genere.